non è che il culpare il ministro di guai ma lì no? vado a indesipo 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 sai cos'è che? si fa dai vuoi sulla curva? io no riuscite a buttarla la e la faccia a terra ha sbagliato strada ha sbagliato strada ha sbagliato strada per ricordarsi un po' il percorso aiuto perchè sta facendo un'altra variante ma ora si 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 si